Prese di pane e risinanzi, lo schizzò, lo diede sui discepoli e essi. Prendete e mangiate anche. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e le sgranzi, lo diede sui discepoli e essi. Prendete e prevedete tutti. Questo è il calice del Dio Santo per la nuova e interna alleanza, versato per voi e per tutti, in revisione dei peccati. Fate questo in memoria di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.